Buongiorno a tutti, oggi vediamo la persistenza della memoria di Salvador Dalí. Salvador Dalí nasce in Spagna nel 1904 e mostra sin dall'infanzia uno spiccato amore per il disegno. È incoraggiato dalla famiglia in tal senso e si iscrive all'Accademia d'Arte di Madrid, che frequenta con alti e bassi a causa del suo carattere impulsivo e anticonformista. Teniamo presente che sin dalla giovinezza Dalí è consapevole del suo genio e si distingue per la totale mancanza di modestia, per l'amore per il suo corpo, che mostra nudo spesso e volentieri senza il minimo imbarazzo, e per il suo desiderio incessante di non omologarsi al mondo che lo circonda. Con questo spirito negli anni venti si reca a Parigi, dove interagisce con artisti come Picasso, Magritte, Miró, e questo lo porta ad avvicinarsi al surrealismo. Abbiamo già accennato al surrealismo quando abbiamo parlato di Miró. L'intento degli artisti surrealisti è quello di contrastare il razionalismo e l'arte accademica e borghese, elaborando invece un nuovo linguaggio capace di penetrare nelle regioni dell'inconscio. Nelle opere surrealiste emergono quindi la parte dell'uomo che appare soprattutto durante i sogni e quell'inconscio che permette di esprimersi tramite parole libere e immagini senza freni inibitori. Siamo in un periodo storico, inoltre, in cui fioriscono nuove concezioni sull'essenza dell'uomo e della sua percezione. In tal senso a influenzare da lì sono state soprattutto le teorie di Freud e di Einstein. Freud, con la sua psicoanalisi, pone l'attenzione su una visione interiore soggettiva che ciascuno di noi ha del mondo e di sé, e Einstein teorizza la relatività che, detta in modo molto semplice, sostiene come il tempo non sia oggettivo ma venga percepito differentemente in base al vissuto di ciascuno. Alla luce di questa premessa arriviamo al nostro quadro. La persistenza della memoria era originariamente intitolato gli orologi molli e ha una genesi piuttosto singolare. Il quadro era già stato impostato da da lì, che aveva già dipinto lo sfondo del cielo, del mare, delle rocce, ma non riusciva a terminarlo, era insomma in un momento di sospensione, di blocco. Una sera da lì va a cena con la moglie, gala, e tra le varie pietanze ordina anche del camembert, che è un formaggio molto cremoso. A fine pasto però non si sente bene e decide di non accompagnare la moglie al cinema e di rientrare a casa. In questo stato di malessere gli si affacciano alla mente delle immagini, tra cui degli orologi che lui associa al formaggio consumato a cena e decide di elaborare in diretta questo stato di confusione, chiamiamolo così, mettendosi a dipingere. Ed ecco che è così che nascono gli orologi molli. Un quadro eseguito in circa due ore e che Gala, al suo rientro dal cinema, vedrà già terminato. Il formato dell'opera è orizzontale e con appunto questo paesaggio fantastico in cui sono disposti alcuni oggetti. A dominare la scena sono alcuni orologi, orologi dalla consistenza deformata, questi orologi molli che segnano il tempo. Sopra al parallelepipedo a sinistra un orologio è appoggiato a cavallo tra le due facce del solido e su di lui è a sua volta appoggiata una mosca che crea una lunga ombra verso le dodici. C'è un altro orologio con la cassa chiusa appoggiato in basso a sinistra su cui ci sono alcune formiche grandi e piccole che creano un motivo quasi decorativo. Verso il bordo posteriore del solido vediamo un tronco morto che pare essere di ulivo con un ramo che sostiene un altro orologio molle che pende verso il basso. Sul terreno c'è una forma non ben chiara ma vagamente antropomorfa, si vede un grande occhio chiuso con lunghe ciglia, le sopracciglia e questa forma sostiene un altro orologio. Verso il fondo dello spazio si apre uno specchio d'acqua, a destra alcuni faraglioni, a sinistra un piano geometrico che avanza verso la riva. Il cielo è limpido e privo di nuvole. A livello compositivo Dalì utilizza la prospettiva geometrica e la diminuzione progressiva delle dimensioni delle figure, mentre il colore dominante è il giallo, un giallo ocra, che dialoga con l'azzurro dell'acqua, del cielo, delle superfici e degli orologi. Lo stile è estremamente realistico, pur non essendo chiaro, tutta prima, il senso di questa rappresentazione si percepisce bene da ogni singolo elemento del quadro. Eppure non so a voi che effetto faccia, a me dà un certo senso di smarrimento, abbastanza inquietante, perché dopo tutto questa immagine è veramente surreale, ma credo che l'inquietudine nasca più che altro dalla verosimiglianza di tutto l'insieme e del contrasto tra l'irrealtà, il mondo irreale e invece la tecnica realista nel disegnare questi simboli. Ma vediamo di capire meglio il senso del quadro, se ci riusciamo. L'orologio molle non indica lo scollere reale delle ore, ma diventa metafora della flessibilità del tempo. È il soggetto a definire i ritmi del tempo. L'orologio rappresenta l'aspetto psicologico dell'evoluzione individuale, del procedere di ciascuno. Secondo Dalì, gli oggetti più comuni e banali, come per l'appunto un orologio, quando vengono decontestualizzati o manipolati visivamente, modificati, producono una sorta di ironia, una sorta di disorientamento e questo stimola le facoltà percettive e visionare. Salvador Dalì vuole avvalorare la tesi di Einstein, secondo cui appunto l'abbiamo visto poco fa, il tempo non è qualcosa di fisso e stabile, ma è relativo e passa, procede. Questo è percepibile non solo dallo scioglimento degli orologi, ma anche dall'ora segnata, che è diversa in tutti e tre i meccanismi. Non solo, la rappresentazione di altri soggetti vuole sottintendere che il tempo passa per tutti ma in maniera diversa. Per un albero che può vivere secoli, il tempo ha un significato differente da quello di una formica o di una mosca, che hanno esistenze più effimere. Insomma, sebbene esistano cose come orologi o i calendari che cercano di scandire il tempo, ci sono cose che non si possono misurare in minuti e giorni e sono le emozioni, gli attimi, le esperienze, i ricordi. Non solo, riprendendo le teorie psicoanalitiche nel contrasto tra molle e rigido, gli orologi si propongono quali veicoli del desiderio e delle pulsioni dell'artista. La faccio, la sto raccontando in modo molto, molto, molto sintetico, però è per far capire come quest'opera non deve illustrare la realtà, ma stimolare i sogni e i desideri. Salvador Dalì a un certo punto si dissocierà dai surrealisti e verrà espulso da questo movimento, da un lato per gli accesi contrasti con il capostipite André Breton e dall'altro perché in Spagna l'ascesa del dittatore fascista Franco gli impedisce di seguire il suo percorso artistico. Dalì tuttavia non si abbatte e si trasferisce negli Stati Uniti, dove continua a dipingere. Tornerà infine nella sua amata Spagna, dove morirà nel 1989, ma quello che voglio dirvi è che Dalì non è solo un pittore, ma è anche scultore, fotografo, coreografo, cineasta, scrittore e sceneggiatore. Attraversa insomma col suo guizzo molti tipi di arte ed è considerato a oggi un vero e proprio genio delle arti visive. Grazie per la visione!